Buongiorno, oggi vi faremo vedere come si fanno le ciambelle e le bombe fritte che si fanno con lo stesso impasto dei cornetti che vi avevo detto anche l'altra volta, comunque la dose ve la ridigo l'altra volta. Allora, un etto e mezzo di zucchero, un etto e mezzo di margarina, 10 grammi di sale, i profumi come vaniglia, se la potete mettere benissimo, un po' di aroma a limone, se ce l'avete, se lo non fa niente. Poi come lievito su un chilo di farina ci vanno sui 40 grammi, 4 uova e un chilo di farina quella forte, mettete tutto nel robotino, tutto insieme, l'acqua quanto basta sempre, l'acqua ne mettete un po' alla volta, come se l'assorbi mettete l'altra, fino a che viene un impasto abbastanza sostenuto, tanto è lo stesso di quello dei cornetti, poi metto il link sopra e lo vedete. Allora, adesso andiamo a fare le giambelle, usando un pezzo di impasto, allo spessore di quasi un centimetro, deve essere bello spesso, poi con il coltello si tagliano delle strisce, e queste larghe, un centimetro e mezzo, si allungano in questa maniera, ecco fatto. si guida qui, con un pizzicotto, si allunga un po' la pasta, queste poi andranno lievitate, devono raddoppiare il volume, e poi fritte che vi faccio vedere come si fa. Allora, queste sono le giambelle, per le bombe è più semplice, prendete uno stampino, tagliapasta, e sempre della stessa altezza delle giambelle, andiamo a stampare, vedete, queste sono ancora più semplici, e queste sono le bombe, vanno lievitate, raddoppiate di volume e fritte. Adesso andiamo a friggere, andiamo a farle lievitare, poi le friggeremo, vi faccio vedere anche la temperatura dell'olio come deve essere, ci vediamo dopo. Allora, ecco qua le nostre sambelle e bombe lievitate, vedete, si sono raddoppiate di volume, e adesso le andremo a friggere. Allora, l'olio deve essere olio di semi, di girasole, e deve stare sulla temperatura di sui 170 gradi. Adesso le metteremo qua nell'olio, queste bisogna prenderle poco con delicatezza, sennò si rompono. E con una cucchiarella, col manico fino a fino, sennò può venire pure le salle. vedete come già prendono colore. Vedete come già prendono colore? vedete che l'olio è troppo alto ovviamente l'abbassate, tanto se sta a 170 gradi lo fate rimanere così. Allora, poi andranno nello zucchero, proprio quando sono bollente, poi andranno nello zucchero, proprio quando sono bollente. perché se sono fredde, il zucchero non si attacca più. Allora, risolviamo, sono pronte. Vedete come sono dorate, sono belle. quando vengono bene, si devono avere questa striscia qui. Adesso andranno impanate nello zucchero. vedete come si attacca. perché sono bollenti. Se aspettate che si fredda, non si attacca più. E per le bombe è la stessa cosa, soltanto l'unica differenza è che dopo vanno riempite con la crema. però la frittura e il procedimento è sempre questa. Queste sono le zambelle finite. A friggere diciamo che è semplice, mi raccomando quando fate l'impasto che deve essere bello asciutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. ed ecco anche le bombe. Tanto il sistema è lo stesso. Come dicevo prima, la differenza è che queste qua sono riempite con la crema o con la cioccolata o come volete.